Primo giorno di scuola oggi per molti studenti abruzzesi, ma non per tutti. L'avvio dell'anno scolastico in Abruzzo, infatti, non avverrà in contemporanea per tutte le scuole delle quattro province. A caratterizzare l'anno scolastico 2016-2017 c'è la preoccupazione per la sicurezza degli edifici scolastici, dopo il terremoto che ha colpito il centro Italia, che ha pertanto fatto slittare il ritorno sui banchi fissato per oggi. In molti comuni, in base a ordinanze dei sindaci, le lezioni riprenderanno il 15 e il 19 settembre. Diverse in Abruzzo le scuole che presentano criticità strutturali, soprattutto della provincia di L'Aquila e di Teramo, dove si sta ancora lavorando per accertare la sicurezza sismica di molti istituti e per gli ultimi lavori di pulizia delle scuole dove sono stati effettuati i lavori di ristrutturazione dopo il terremoto del 24 agosto. All'Aquila, nel comune di Pescina, la primaria è stata chiusa e gli studenti riprenderanno le lezioni in un modulo ad uso scolastico provvisorio. A Penne, in provincia di Pescara, l'istituto comprensivo Mario Giardini è stato sgomberato e gli alunni sono stati trasferiti nelle aule del Laura Ciulli Paratore. A Teramo, problemi al liceo artistico Montauti, dove sono stati dichiarati inagibili un'aula e l'ingresso principale, mentre al liceo magistrale Giannina Milli sono nove le aule inagibili insieme all'auditorium. Infine, la sede di staccata di Montorio del Pascal è parzialmente inagibile e le classi sono state spostate a Teramo, mentre gli uffici amministrativi sono ospitati dalla scuola elementare. Nel dettaglio al Pascal di Teramo e all'artistico, i danni sono classificati in fascia C, un'agibilità parziale che non si può risolvere con un intervento immediato, mentre tutti gli altri istituti, finora ispezionati, sono in fascia B o E e la provincia sta intervenendo con lavori di somma urgenza. Fino ad ora sono stati spesi 350.000 euro. Posticipo dell'avvio delle lezioni anche a Montorio Alvomano, dove il sindaco ha firmato un'apposita ordinanza che fa slittare l'apertura delle scuole comunali al 15 settembre. In Abruzzo sono quasi 176.000, circa 2.000 a meno dell'anno scorso, gli studenti delle scuole abruzzesi che torneranno in aula nei prossimi giorni.